Ciao, sono Daniela e ho deciso, sono stata richiamata in qualche modo a questo corso perché avevo voglia di scoprirmi, di capirmi soprattutto e ascoltarmi. So che abbiamo tutti dei talenti un po' nascosti e questo corso mi ha consentito di scoprire che ognuno di noi può mettersi all'ascolto e riuscire a ricevere dei messaggi positivi per sé e per gli altri. Senz'altro lo consiglio perché per me è stato molto utile e sono sicura che si può andare avanti su questa via, quindi partiamo da questo corso per migliorare l'ascolto di sé e anche della strada che andremo poi a percorrere. Grazie.